buonasera a tutti benvenuti a questo webinar del lunedì oggi è il 10 settembre 2018 e puntuali come degli orologi svizzeri appunto alle 18 cominciamo il webinar del lunedì con me ci sono Enrico Lanati buonasera a tutti e qui sempre più Enrico in Svizzera invece qui con me nella sede maltese di investire.biz il mitico Riccardo Zago benvenuto anche a te Riccardo buonasera a tutti ragazzi allora ragazzi un webinar un po' particolare questo perché come preannunciato infatti siamo tantissimi perché siamo arrivati oltre 500 iscritti dobbiamo presentare un progetto molto molto particolare infatti in alto a destra dove c'è un banner lampeggiante vedete una faccia che probabilmente tanti di voi conoscono Riccardo se clicchi per favore su questo questo banner così da portarci nella eccoci qua allora ragazzi di che cosa si tratta il progetto appunto che abbiamo pensato di far partire su investire.biz è un progetto molto molto interessante con una persona che probabilmente tanti di voi non conoscono perché stiamo parlando di Marcello Ascani Marcello Ascani è uno youtuber ovvero un ragazzo molto giovane perché ha vent'anni molto famoso in Italia su YouTube appunto proprio perché ha un suo canale ha un suo canale dove pubblica i suoi viaggi tutta la sua vita i suoi vlog e tra le varie cose si interessa anche di finanza infatti ha pubblicato diversi video dove ha fatto vedere i suoi piani di investimenti ma la cosa per noi importante è che quando ha parlato del trading online appunto ne ha parlato male e quindi io lo lo ho contattato anche perché sia io che Enrico conoscevamo già da almeno due anni Marcello perché lo avevamo conosciuto ad una festa di di YouTube e insomma gli abbiamo detto guarda Marcello tu praticamente hai detto che nei tuoi video appunto che il trading online è pericoloso hai avvisato hai avvertito tutti i tuoi follower su YouTube di lasciar perdere il trading online beh ti vogliamo fare una sfida ti vogliamo proporre una sfida infatti come probabilmente voi sapete si scorri pure la pagina Riccardo di così facciamo vedere anche i due video sotto nella parte bassa come sicuramente sapete ah no i video sono sull'altro sull'altra pagina Riccardo se ci puoi andare grazie mille nella sezione nella sezione se vai no no Riccardo su formazione trading ecco qua perfetto appunto abbiamo abbiamo ho detto a Marcello noi di investire.biz facciamo corsi di trading abbiamo formato tante persone Riccardo un esempio appunto e sostanzialmente abbiamo detto formazione con una formazione adeguata tu possono diventare dei trader di successo quindi sostanzialmente abbiamo abbiamo sfidato Marcello a a seguire un corso completo di trading per vedere appunto se al termine della sua esperienza sarà in grado di fare trading in maniera profittevole o meno se andate su investire.biz se seguimi Riccardo ok e vai appunto nel non so ti vedo un po lento vai nella sezione guide per favore sezione guide la pagina corso di trading con Marcello Ascani poi avete non cliccare Riccardo rimani qua per favore ok vedete anche che c'è la pagina trading online per chi comincia se andate in in questa pagina ok nella parte bassa vedrete appunto che ci sono tutte e due i video che spiegano nel dettaglio questo progetto infatti Marcello è venuto qui a Malta proprio negli scorsi giorni intanto salutiamo tutte le persone che si sono collegate e appunto abbiamo girato diversi video Marcello ha girato il suo video quindi ha spiegato appunto che cosa qual è stata la sua esperienza del trading online e che cosa abbiamo visto durante la prima sezione la prima sessione del corso e io ho fatto anche un video dove appunto ho spiegato il progetto dal mio punto di vista quindi un progetto davvero molto importante anche perché se andate a vedere i video soprattutto di Marcello in poche ore hanno già fatto anzi facciamolo vedere Riccardo clicca sul andiamo su YouTube facciamo vedere quante visite ha già fatto il video di Marcello ok ok ecco uscito a luna di oggi e siamo già a 15.814 visualizzazioni di questo video quindi qualcosa di veramente clamoroso Marcello è rimasto qua per due giorni sono stati due giorni veramente belli anche perché poi non è che abbiamo solamente lavorato non è che abbiamo fatto solo trading quindi siamo andati in giro alla sera siamo abbiamo portato ho portato Marcello in giro un po' per l'isola ne abbiamo approfittato anche per fare dei video più dati al alla visita di Malta ed è stata una bellissima esperienza e perché ve ne vogliamo parlare perché se intanto ragazzi volete aggiungere qualcosa ditelo cioè aprite pure i vostri microfoni e parlate pure perché ve ne parliamo perché questa questo corso rappresenta una bella opportunità per tutti giusto Enrico sì assolutamente no volevo lasciarti finire e poi volevo andare nello specifico a vedere il programma del corso perché la cosa interessante tu giustamente hai detto Marcello è venuto è iniziato a imparare il trading online però la cosa interessante secondo me è che si tratta di un corso di trading completo cioè si parte da la parte diciamo delle basi del trading online che magari molte persone che ci seguono già conoscono fino ad arrivare appunto a delle cose un po più strutturate quindi trading verso investimenti lì cimoco Warren Buffett i cicli che sono un qualcosa ecco qui andiamo un po nello specifico volevo magari spiegar meglio questa parte proprio perché ci tengo che sia molto chiaro il progetto praticamente che cosa succede Marcello una volta al mese seguirà un nostro corso infatti in questi due giorni ha seguito la prima parte la prima lezione del corso che vedete lì nel programma le basi del trading online i segreti per cominciare a fare trading abbiamo fatto questa lezione nonostante fossimo qui negli stessi uffici a Malta sempre tramite webinar così che cosa abbiamo fatto noi abbiamo registrato la sua lezione quindi ci sono io che parlo e lui che ascolta e fa le domande così che tutte le persone che vorranno appunto comprare che vorranno fare che vorranno seguire questo corso lo potranno fare ed è una bellissima opportunità per tutti intanto perché Marcello è veramente un ragazzo in gamba ed è veramente un ragazzo sveglio ha fatto delle domande assolutamente intelligenti io glielo ho detto guarda Marcello guarda che questo corso lo registriamo quindi non lo vedrai solo tu qualsiasi domanda ti viene in mente falla perché la tua domanda sarà poi la domanda anche di tanti altri infatti ha fatto delle domande veramente pertinenti e molto buone molto belle quindi sostanzialmente perché siamo molto contenti perché grazie a questa idea che abbiamo avuto riusciamo sostanzialmente ad offrire un un appunto riusciamo ad offrire veramente un un corso super completo perché potete immaginare appunto lo vedete se torni Riccardo sul corso di trading con Marcello su investire.biz per favore che si vede un po' meglio nel programma eccolo qua vedete sostanzialmente vabbè a parte la prima lezione appunto che abbiamo già fatto dalla seconda lezione proprio si comincia a entrare proprio nel vivo di quello che è la parte pratica del trading la prossima lezione sarà un bel condensato di analisi tecnica infatti vedremo le figure gli oscillatori e gli indicatori quindi vedremo proprio come cominciare ad approcciare proprio all'analisi del prezzo proprio all'analisi del grafico proprio quindi analisi tecnica pura la terza lezione trading con i pattern di prezzo e l'analisi grafica questo corso lo farà lo terrà Riccardo appunto vuoi aggiungere qualche parola Riccardo magari dato che sei tu il professore con molto piacere con molto piacere professore adesso non esageriamo comunque sì sicuramente sono un appassionato di questo tipo di analisi trading con i pattern di prezzo all'analisi grafica non svelo niente comunque è molto molto importante è molto molto importante studiare il prezzo e quindi cercare di capire come si comportano gli operatori di borsa per poi cercare di avere più probabilità di successo una volta che si va a fare una determinata operazione piuttosto che un'altra insomma quindi non entrare a caso proprio quando si fanno delle operazioni ma capire bene quello che si vuole ma soprattutto anche gestire bene il rischio sapere quando uscire sia in caso di perdita sia in caso di profitto quindi molte molte cose da vedere non vedo l'ora bene 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 quindi questa era la terza lezione poi ci sarà la quarta lezione dove appunto riprenderò io lo scettro dell'insegnante e parleremo in maniera molto approfondita con tutte le novità degli ultimi periodi di stagionalità e cicli di borsa quindi davvero un'arma quella della stagionalità e dei cicli davvero potentissima che ci consentirà appunto di aumentare le probabilità a nostro favore poi si passerà alla quinta lezione dove rientra in campo il nostro mitico Riccardino infatti si parlerà di Ichimoku Riccardo? Eccomi qui eccomi qui sì scusate il microfono spento sì trading con Ichimoku quindi si va già un po' più sull'avanzato l'importante è che questa questa parte avviene dopo aver già delle basi dopo che insomma avremo già delle basi importanti e quindi si va ad aggiungere a queste importanti basi come i pattern, l'analisi grafica, l'analisi tecnica anche un indicatore che non è solo un indicatore ma è un sistema di trading completo che quindi ci fa risparmiare tempo e aumenta anche le nostre probabilità di successo e ovviamente è il mio indicatore preferito e lo uso tutti i giorni sui mercati per fare qualsiasi tipo di operazione e non vedo l'ora anche di fare questa questa lezione poi ovviamente la mia passione quindi non vedo l'ora che arrivi il momento bene poi si passa alla lezione numero 6 dove cominceremo a introdurre l'argomento investimenti perché come avrete modo poi di vedere anche nei video che abbiamo preparato in questi giorni quindi l'obiettivo poi del trading è quello di generare flusso di cassa cash flow come dicono gli americani e di conseguenza una volta ottenuto un utile noi che cosa facciamo prendiamo questi soldi e li investiamo anche per il lungo termine magari investendo in titoli sfruttando i trend di lungo periodo delle borse e proprio grazie alla sesta lezione e alla lezione extra entreremo proprio nel dettaglio di come si gestiscono i patrimoni quindi avremo proprio come special guest anche se non ci sarà chiaramente lui veramente ma Warren Buffett infatti capiremo come analizzare i bilanci e come calcolare i prezzi corretti delle azioni quindi sostanzialmente la cosa bella qual è? molto semplice che con veramente poco perché se Riccardo scendi verso il basso possiamo andare a vedere il prezzo del biglietto sostanzialmente per partecipare a tutto questo corso stiamo parlando di 499 euro quindi per un corso sostanzialmente che ne comprende almeno 7 quindi insomma una bella opportunità per tutti gli amici di investire.biz tra l'altro se non ricordo male Riccardo abbiamo anche un video messaggio da parte di Marcello che in questo momento purtroppo non può essere dei nostri perché è a New York eccolo qui probabilmente non so se si sentirà ma vabbè ecco insomma è un video dove saluta tutti tutti i presenti anche noi del team investire.biz a Times Square da New York ecco probabilmente non si è sentito molto eh probabilmente non si è sentito perché appunto siamo io ci sono sì 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 però mi senti ok ok sì 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 ok Danilo ci chiede c'è la possibilità di fare una coaching solo su stagionalità e Cimoku? Certo Danilo assolutamente volendo basta che ci scrivi e si può fare tutto mando una mail a info chiocciolinvestire.biz eh Davide mi dice che non vede il video mi sembra però tutto ok altrimenti ce l'avreste già detto in tantissimi bene quindi non so se volete aggiungere qualcosa io credo di aver detto tutto eh vi invito appunto a andare a visitare la pagina su investire.biz dove trovate i vlog eh appunto sia il mio che quello di Marcello perché sono molto carini e molto simpatici ehm personalmente mi sono impegnato tanto ci ho messo praticamente due due notti per per fare questo video nonostante siano cinque minuti di video e insomma spero che questa iniziativa vi piaccia è davvero un'ottima opportunità soprattutto per chi eh vuole decide di fare un investimento serio sulla propria carriera da da trader quindi è davvero un ottimo punto di partenza insomma che grazie a questa collaborazione riusciamo a sfruttare appunto eh anche per per voi bene 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 non so se allora se voi posso aggiungere qualcosa visto che ho un po' il polso della situazione perché mi è capitato oggi ho sentito insomma un po' di telefonate che sono arrivate eh qui presso i nostri uffici allora ci sono un po' di domande quindi vorrei rispondere eh a tutti diciamo e faccio mie anche le domande che abbiamo ricevuto eh diciamo durante la giornata odierna visto che c'è stato tanto tanto interesse nei confronti di questo nuovo progetto allora la domanda più diffusa era ehm se il corso eh fosse registrato oppure no eh vi rispondo perché appunto alcune persone dicono io lavoro eh non ho non ho tempo durante il giorno per seguirlo in determinati orari e quindi rispondiamo il corso è registrato quindi di fatto acquistando eh questo questo servizio questo questo corso si riceve una una video lezione quindi ogni video lezione dura eh intorno alle due ore e quindi diciamo le riceverete tranquillamente all'interno della vostra casella di postele le altre lezioni dureranno di più chiaramente perché per esempio quando ci sarà la lezione sui cimoco una su tutte per esempio quella sarà molto più lunga di due ore chiaramente perché in due ore non si può spiegare anche la lezione numero tre sarà più lunga di due ore esatto 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 no ma chiaramente chiaramente cioè la prima con due ore siamo riusciti assolutamente a toccare tutti i punti ma proprio perché si parla proprio delle basi quindi abbiamo spiegato il margine la leva e tutte queste cose ma assolutamente dalle prossime che si entra nel dettaglio quindi voi ricevete la registrazione e poi ve la potete vedere con calma nel weekend la sera a casa sul televisore dove vi pare tanto una volta che avete la registrazione è vostra per sempre sì ragazzi questo è un corso veramente completo e neanche nel senso bisogna impegnarsi molto per seguirlo perché comunque insomma è un percorso veramente completo ci sono molti corsi messi insieme ma fatti in un in un unico percorso quindi molto mi piace molto mi piace molto questa idea e insomma non vedo l'ora di iniziare ehm Enrico cosa hai qualcosa da aggiungere? Sì poi tra le altre domande appunto mi dicevano quindi se io acquisto eh il corso ricevo tutte le varie lezioni eh in realtà appunto eh ci sarà un un intervallo temporale nel senso che la prima lezione è già stata registrata la prossima uscirà probabilmente nel giro di un mesetto e quindi tutto il percorso copre circa sei mesi questo secondo me è molto utile perché vi dà anche la possibilità di potervi impratichire come diceva Luca durante il suo video con ContiDemo per cercare di capire soprattutto chi è nuovo eh in questo tipo di diciamo di di attività eh a modo di di poter imparare interessante anche secondo me il modello di 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 prezzo appunto via via appunto che passerà il tempo il corso avrà un prezzo sempre più più alto perché appunto chi ci dà fiducia dall'inizio insomma in qualche modo viene premiato oggi con il costo del corso completo di fatto costa meno che comprare due singoli moduli quindi secondo me è estremamente conveniente bene 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 eh no molto guardate ragazzi io sono proprio contento proprio perché eh non abbiamo voluto fare un qualcosa di commerciale nel senso che quando vedrete anche il video proprio lo diciamo chiaramente cioè noi abbiamo scelto di fare questo progetto abbiamo proposto questo progetto a Marcello a Scani intanto perché è molto seguito su YouTube c'ha duecentosessantamila iscritti al suo canale YouTube quindi è una persona famosa eh tenete presente che mentre eravamo in giro per Malta un sacco di gente lo fermava per fare e il secondo motivo è che eh siamo stati molto trasparenti cioè abbiamo detto esattamente le cose come stanno è un qualcosa è un corso per chi vuol fare le cose fatte per bene noi non siamo i tipi che vanno in giro dire ah metti mille euro poi vedi no no assolutamente abbiamo messo dei paletti fin da subito e soprattutto abbiamo deciso non di fare una cosa così mordi e fuggi ma appunto di diluire in sei mesi che sembrano tanti ma poi volano un corso così in modo tale che per dire una persona fa il corso sui cimoku benissimo prima di fare un altro corso di fare un'altra lezione su altri argomenti a un mese di tempo nel mentre può seguire i webinar magari di Riccardo sui cimoku può scrivere degli articoli su investire punto biz leggere quelli degli altri è un progetto per chi vuol farle cose fatte per bene se siete qui per cercare un modo per guadagnare soldi veloci non è questo il progetto che fa per voi capito quindi mi raccomando eh insomma pensateci bene perché comunque sì non stiamo parlando di tantissimi soldi perché veramente è molto conveniente per voi però ecco sono comunque una cifra insomma abbastanza importante tra l'altro importantissimo perché eh il corso ha questo costo di quattro e novantanove fino a fine mese poi sostanzialmente da fine mese scattano degli scaglioni che lo porteranno questo corso a costare settecentoquarantanove quindi sostanzialmente eh è un corso che costerà di più più il tempo passa ok quindi questo perché chiaramente vogliamo premiare chi ci dà fiducia fin da subito la qualità dei contenuti è fuori di dubbio perché chiaramente già ci conoscete sapete che lavoriamo benissimo e in più insomma qui ci stiamo mettendo la faccia non con eh magari eh mille duemila persone ma Riccardo se vai per esempio fammi vedere su youtube quante visualizzazioni al video di Marcello adesso a quest'ora giusto per per farmi un'idea ecco qua siamo arrivati in questo momento a sedicimila centoventotto ragazzi i nostri video quante quante visite fa tanto per capire la la tua video analisi Riccardo che che la pubblichi tutti i giorni eh siamo su una media di cinquecento ecco ecco per farvi capire 500 su youtube poi abbiamo anche sito facebook ma insomma sicuramente non sedicimila in sei ore ci ci stiamo mettendo la faccia quindi eh saremo probabilmente anche attaccati da un sacco di hater che diranno oddio ecco i venditori di corsi di fumo bla 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 ecco noi siamo pronti a rispondere a tutte le critiche perché il trading è la nostra vita la nostra passione e quindi non ci fa paura assolutamente essere di fronte a questi a questi numeri qua sono contento poi che Marcello appunto ha deciso di eh di seguire il nostro corso un po' anche perché eh in cambio appunto del corso gratuito poi lui mi insegna anche tanto del del di come si fanno i video e devo dire che due giorni con lui già ho imparato tantissimo e questo già mi fa molto piacere perché quando deciderò di lasciare il trading per sempre mi metterò sicuramente anch'io a fare i video da 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 in giro per il mondo quindi sicuramente imparare da Marcello esatto in verità lo sto già facendo sì sì però insomma lo vorrei fare anche di più eh però invece seguirò la la strada che mi ha indicato Jack Ma che invece ha detto che a un certo momento bisogna mettersi su una bella spiaggia e lasciare tutto quanto io quando smetterò altro che vlog no ma io mi diverso a fare i vlog il pescatore messicano dobbiamo fare Luca è vero 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 io ho fatto un video che è molto bello sul sul pescatore messicano se avete voglia cercatelo su su youtube che è un è un video che Riccardo per esempio è stato ispirato tantissimo dal video sul pescatore messicano ma semplicemente perché Riccardo non ci ha voglia di fare un cazzo e quindi è è quando ho sentito la storia andatevelo a sentire poi capite quando quando l'ha visto ho detto Riccardo mi fa bellissimo il video ho detto perfetto Riccardo non lavorerà mai più un giorno della sua vita adesso che ha la scritta io non lavoro un giorno della mia vita perché è fatto io lavoro la mia passione quindi più o meno come dicono i giapponesi scegli un lavoro che ti piace non lavorerai mai più un giorno della tua vita quindi è ho appena inviato in chat il video di Luca di scazzati youtuber il pescatore ma no si chiama una storia che ti ispirerà il pescatore messicano tutti strano guardando secondo me questa qui ma anche questo è bello esatto esatto e niente Andrea ci dice già fatto spiagge gnocca è vero che Andrea tu vivi a tu vivi a pochette mi pare in Thailandia quindi vedo vedo ti seguo ogni tanto su su facebook anche delle donne collegate e mi raccomando ragazzi collegata questa sera c'è anche la nostra amica Martina Provenzano che sarà compagna di Riccardo Zago e Corrado Rondelli a di Cimoku day dai facciamo un po' di pubblicità anche a i Cimoku day visto che abbiamo ancora qualche sedia da riempire all'evento di Milano quindi perfetto ecco qua Riccardo qua ti lascio parlare a te però c'è anche Mariangelo ragazzi ci sono un po' di donne quando 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 le si nomina poi spuntano me lo dovete ricordare prima perché sennò io dico le parolacce dico le cose sconce ecco allora venite tutte all'Icimoku day 22 settembre 2018 a Milano zona centrale non vedo l'ora di partecipare sarà un bellissimo evento con me Martina e il buon Corrado grandissimo dovete dovete sapere che Riccardo oggi è stato al telefono tipo 45 minuti quando ho finito quando ho finito gli ho detto Riccardo ma che cazzo stavi facendo al telefono eh no ero al telefono con Martina stiamo organizzando Icimoku ho detto minchia l'ha presa sul serio questa cosa qua dell'Icimoku day come tutte le cose che faccio ovviamente bene 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 eh scusate stiamo facendo un casino da Madonna non si capisce niente fa niente eh chi parla Riccardo vai vado io poi vai Terry allora sì stavo dicendo Icimoku day 22 settembre 2018 a Milano zona centrale parleremo tutto il giorno di Icimoku dell'indicatore di cui stavo parlando prima in in molti già lo conoscono magari eh altre persone non lo conoscono beh ovviamente questo sarà un corso intensivo quindi si partirà dalle basi eh fino ad andare alle analisi operative di tutti e tre i relatori quindi analisi operative mie di Martina e di Corrado è una giornata veramente molto interessante perché io stesso che sono relatore andrò a confrontarmi eh con Martina e con Corrado perché loro comunque hanno un'operatività ehm probabilmente molto differente dalla mia e quindi potrò anch'io stesso prendere nuovi spunti per insomma per per il mio trading per la mia operatività qui c'è tutto il programma molto interessante iniziamo presto quindi 8 e 30 per i posti davanti ragazzi se no poi finiscono subito ehm poi ci presenteremo lì andremo a vedere le basi dell'indicatore una piccola pausa poi eh andiamo un po' più nel dettaglio pausa pranzo insieme e poi nel pomeriggio analisi operative aspetta 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 insieme eh ognuno si paga il suo però eh quindi mettiamo in chiaro perché se no Enrico mi viene gli viene un infarto se se poi si trova quindi mi raccomando l'ultima volta che abbiamo fatto un seminario a Milano ho dovuto pagare pure due bottiglie di Cervaro della Sala e madonna ti sono rimaste proprio non gli va giù Enrico Enrico è un taccagno tirchio veramente di quelli ad altissimo livello però tranquilli le fatture quando le dobbiamo pagare Martino e Riccardo tranquilli che tanto ce l'ho io la carta di credito aziendale quindi io striscio che è un piacere non vi preoccupate no a parte a parte gli scherzi insomma eh dai un un bel evento ci divertiremo poi insomma io sarò nel pubblico io Enrico saremo nel pubblico in qualità di di studenti perché io Ichimoku non l'ho mai studiato quando ho scoperto vi racconto come ho conosciuto io Ichimoku era non so credo oramai due anni fa ero a Londra a parlare con un trader molto famoso inglese in verità lui è algerino se non sbaglio di origine ma vabbè oramai c'è anche il passaporto inglese e questo mi ha detto Luca ma tu conosci ti ricordi Henry c'eri anche tu e e questo non ho capito non ho capito hai pagato anche in occasione sì sì e praticamente mi fa Luca ma tu sai che cos'è Ichimoku perché la gente continua a scrivermi di questi Ichimoku Ichimoku e mi son detto bah chissà che cavolo è sta cavolata poi sono andato a casa e ho scoperto che cavoli era una roba seria allora che cosa ho fatto ho comprato tutti i libri di Ichimoku possibili immaginabili che ho trovato su Amazon glielo ho dato in mano a Riccardo Zago gli ho detto bene Riccardo adesso tu siccome io non ho voglia ti studi Ichimoku e per fortuna si è appassionato perché insomma è diventato un un grande esperto un grande esperto e in questo evento abbiamo messo insieme quelli che secondo noi sono appunto i più esperti in Italia di questa materia poi c'è Danilo che ci dice l'unico che non ha la Porsche Enrico vero è vero è vero è vero è vero è vero comunque no è tra l'altro ragazzi nel video di Marcello Ascani si vede la macchina nuova di Riccardo cioè che è imperdibile dovete assolutamente vederla ma in realtà è un pezzo d'epoca 1992 Suzuki tutto modificato con le ruote giganti sospensioni ma in realtà ruote fuori assolutamente illegali come i sedili dietro ovviamente senza cinture però vabbè dai abbastanza divertente per Malta può andare bene un bel 14 del 92 ma molto comunque a me che me ne frega tanto adesso quando la settimana prossima arriverà Martina vado a prenderla con la Porsche e quindi sono già in vantaggio su tutti ah ah poi faccio pagare Enrico la benzina però perché sennò non c'ho i soldi però dai a parte no a parte no a parte gli scherzi no fatemi dire una cosa seria Luca invece mi sa che c'è una brutta notizia per me per te e sai qual è la brutta notizia è perché mi sa che io e te dovremmo stare in piedi perché a parte che il corso quello sui cimoku per e ancora questo prezzo ancora per quattro giorni però in generale stanno finendo i posti ne sono stati venduti diversi anche oggi mi sa che abbiamo intorno a cinque sei posti ancora quindi chi fosse interessato insomma si scriva perché stanno finendo vabbè al massimo ci sediamo tra i tra i relatori Enrico cosa dobbiamo fare no 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 non vi accetto dovete stare dalle vostre parti ah hai capito giusto 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 no no assolutamente no no ma farò domande io eh perché a parte gli scherzi eh ne approfitto vedi vedi di non esagerare però no ma ne approfitto ne approfitto perché c'è perché c'è Martina che è brava perché altrimenti da te cos'è che devo imparare scusa no dai basta dire cavolate ragazzi allora quindi ricapitolando progetto con Marcello Ascani bellissimo importantissimo se anche conoscete qualcuno che non conosce il trading vuole cominciare a fare trading da zero è proprio il buonissimo mercato eh se eh appunto volete essere dei nostri a Milano come diceva Enrico ancora qualche posto c'è siccome ci teniamo a fare le cose fatte per bene non ci saranno duemila persone è un evento a numero chiuso proprio perché vogliamo dare l'opportunità a tutti di seguire per bene quindi poi non vi lamentate cioè non arrivate tra tre giorni a dirà ma mi sono iscritto non c'è più posto eh mi raccomando se siete interessati fatelo subito bene io direi di passare velocemente a vedere un po' di mercati perché altrimenti Francesca ci tira le orecchie ci ha scritto pensavo che parlavate di mercati che abbiamo presentato un pochettino di cose è stato un progetto quindi ci perdonerai Riccardo qualcosina cosa stai tenendo d'occhio dico la verità negli ultimi giorni mercati li ho visti ben poco perché chiaramente sono stato molto impegnato con Marcello però adesso ritorno in pista dai andiamo a vedere il nostro indice visto che siamo eccolo qua il nostro indice mentre lo lo prendi l'indice ti posso aggiornare su una cosa io ho messo all'interno sai che abbiamo il nuovo canale traders club certo io ho messo nel mirino il titolo unicredit l'ho scritto qualche tempo fa perché c'è qualche tempo un quarto d'altro fa perché secondo me insomma siamo in prossimità eh di livelli interessanti per per poterlo shortare perché secondo me questa ripartenza eh non è frutto eh di un qualcosa di duraturo e secondo me la ripartenza che abbiamo visto eh potrebbe fermarsi appunto molto presto magari nella giornata di domani e quindi se ci fosse un'apertura molto positiva eh del titolo unicredit dovesse aprire con un più due più due e mezzo ehm cosa che è possibile secondo me secondo me quel tipo di situazione andrebbe a eh sciogliersi intorno alle undici mezzogiorno e quindi io attenderei la fase di acquisto una volta in cui finisce diciamo la corsa e e l'acquisto probabilmente potrebbe eh sgonfiarsi quindi diciamo la mia operatività in questo momento è più legata al tempo che non eh diciamo a un livello di prezzo preciso un'apertura intorno al due per cento mi farebbe pensare di attendere intorno alle dieci e mezza undici per poter magari aprire una posizione al ribasso più su unicredit che non sull'indice perché secondo me potrebbe mollare di più rispetto all'indice interessante la tua view eh interessante la tua view Henry devo dire che comunque la conformazione grafica un po' di unicredit intesa ubi banca sono molto molto simili c'è italiano sì sì esattamente ma è abbastanza simile anche a livello volumetrico ma ehm soprattutto a livello tecnico ehm infatti io sono d'accordo con te e sono d'accordo con te Henry guarda io ho appena individuato una fascia tecnica che può interessarmi anzi devo dire che eh quasi quasi uno shortino lo proverei con uno stop abbastanza stretto e un eh possibile eh un possibile profitto abbastanza interessante su sui minimi almeno come primo target per poi magari chiudere parte della posizione e lasciar correre eh e lasciar correre i profitti sì guarda infatti guardate questo grafico ok stiamo parlando di unicredit e guardate l'indice eh italiano ok siamo più o meno eh sono più o meno la stessa cosa non la stessa cosa ma comunque abbastanza simile anche qui quindi ho eh io ho la stessa view eh volete trovare uno short da questi livelli zona 21.070 a 21.170 per quale motivo? sia per uno studio volumetrico interessante poi eh non mi dilungo eh nei dettagli ma anche a livello tecnico guardate abbiamo una resistenza statica in area 21.150 che poi ovviamente io vado sempre a prendere delle fasce tecniche non solo eh un livello in modo tale da avere più tolleranza eh una resistenza dinamica detta anche trendline che ho tracciato come ha insegnato il mio maestro di scacciati ma che bella trendline questa qua madonna così ci sei costato tanto ci è costato tanto farti studiare ma alla fine guarda che risultati va che roba allora dalla chiusura del no stavo dicendo una cavolata basta cavolate siamo nella parte mercato ok ok dai allora dalla chiusura del 7 di maggio alla chiusura del 15 di maggio ho trattato questa linea l'ho prolungata nel futuro e guardate come poi ha reagito nuovamente verso la fine di luglio inizio agosto qui 31 luglio 1 di agosto insomma ci stiamo riavvicinando con questo anche se abbiamo eh una cosa che dico sempre anche se abbiamo tutte queste informazioni che vanno dalla nostra parte non vuol dire che il prezzo andrà dalla dalla parte corretta quindi noi dobbiamo sempre pensare che la nostra operazione potrebbe potrebbe andare in stop quindi bisogna gestire bene la posizione con un adeguato money management eh comunque i livelli secondo me interessanti sono quelli da shortare con primo target sui minimi di periodo che sto parlando dei minimi di metà agosto qui in area 20.300 20.200 e poi lasciamo correre fino a 20.000 lì chiudiamo parte della posizione lasciamo correre i profitti e vediamo quello che accadrà se invece il prezzo supererà la zona di adesso vediamo un attimo dove metterò lo stop loss di 21.300 e prenderò lo stop e pace è fatta quindi io la vedo così sull'italy la conformazione che vedete è molto simile anche quindi come detto su unicredit ma anche su intesa bene 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 io volevo segnalare invece un'altra cosa già che ci sono visto che ultimamente nel nel nostro canale eh traders club appunto sto scrivendo con con più sono più attivo nel nostro canale che non sul sito tornerò ad essere attivo anche sul sito lo prometto e tra l'altro appunto riccardo se nel frattempo vuoi mandare il link del traders club lo possiamo mandare a tutti gli iscritti ehm ecco una cosa volevo segnalato dollaro franco quello secondo me è molto interessante andiamo a prenderlo vediamo se ci sono delle opportunità magari per chi volesse rientrare allora adesso non ho la piattaforma col conto aperto ma insomma adesso abbiamo il nostro conticino dove facciamo tutte le operazioni che scriviamo su traders club e io ti dico Henry che noi abbiamo aperto la posizione a rialzo su dollaro franco precisamente sai dove dove l'ho aperta io l'ho aperta da dove 0 96 proprio da qui 0 9 6 5 2 siamo long da quel livello lì e devo dire che stiamo andando molto bene anche oggi con The Carolis che ho fatto la diretta l'ho spiegato siamo long da questi livelli un bel carry trade che adesso andrai a spiegare tu che cos'è e insomma stiamo facendo un stiamo facendo un 100 pips un 1% dal nostro punto di entrata lasciamo correre mi pare che il target fosse 1 giusto il target è 1 secondo me non arriva a 1 quindi secondo me si può liquidare a 99 poi dovesse arrivare a 1 vabbè però nel senso 0 99 è già un bel livello di target si può rientrare appena sotto 0 97 se dovesse andarci ora io in questo momento vedo della forza su dollaro franco però diciamo è un trade interessante la cosa bella di questo di questo di questo trade è che positive che cosa significa significa che se voi andate long su dollaro franco venite pagati per mantenere la posizione poca roba perché non stiamo parlando di lire turche però diciamo qualcosa di interessante quindi mi piace che abbiamo fatto il conto insieme ti ricordi abbiamo fatto il conto su un contratto da 100.000 che sarebbe un contratto normale come abbiamo aperto noi un 170 euro al mese insomma di carry trade entrano però ovviamente attenzione non fate l'operazione solo perché vi danno perché è carry trade perché sennò poi vi fate male esatto che ne abbiamo visti morire tanti di persone perché perché prendevano i soldi del carry trade quindi mi raccomando diciamo questo è una cosa un po' diversa non è lira turca cioè stai comprando dollaro non stai comprando rand non stai comprando di fatto stai investendo sul dollaro quindi è un caso è un caso semplicemente dettato da una asimmetria proprio tecnica nel senso che la banca centrale svizzera in questo momento ha un tasso a meno 0 75 che è un qualcosa di anomalo nel senso che è vero che la svizzera ha sempre avuto tassi bassi però da tassi bassi a tassi meno 0 75 ce ne passa un bel po' quindi questo secondo me è un qualcosa di interessante insomma bene bene altre cose allora altre cose siamo entrati anche su facebook lo ripetiamo però sono queste le operazioni che abbiamo in piattaforma in questo momento i segnali che abbiamo dato facebook siamo siamo long non da 171 perché questo è l'altro conto ma da 162 siamo long qui di là sul conto di là abbiamo fatto long da 162 vediamo dov'è eccolo qua ma che entrate ti ho fatto Henry c'è qua io in realtà ho io questo l'ho iniziato a comprare a 168 quindi su una posizione sono sono in perdita però non sono particolarmente preoccupato perché secondo me la prossima trimestrale facebook andrà a fare performance tenete presente che da 164 168 è un 2 3 per cento di differenza su un titolo che comunque diciamo ha una discreta volatilità quindi rimane ho fatto una coaching la settimana scorsa rimane secondo me continua ad essere uno dei titoli più interessanti in assoluto una cosa una cosa interessante secondo me che si potrebbe fare è andare long di facebook e short di nasdaq secondo me facebook è meglio del nasdaq in generale in questo momento quindi è un tipo di operatività che vi dà la possibilità di coprirsi di difendersi posso rispondere a una cosa chiedete perché io sono l'unico che non ha la Porsche anche Antonio perché è tirchio perché è tirchio ragazzi è molto semplice cioè è tirchio no allora vabbè dicono perché è tirchio ma no 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 è perché è tirchio cioè dillo è così cioè comunque intendevano il titolo Porsche comunque vai 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 ah no ah no no Porsche Porsche ho il titolo ho il titolo ce l'ho il titolo Porsche però non ho la macchina quindi in realtà guadagno ogni volta Luca va a fare i tagliandi a parte questo ogni volta sono 2000 euro e comunque posso dire una cosa velocissima io mi sono comprato la Porsche bella perché la mia è una 4S cioè è una Porsche vera cioè in Svizzera non mi ci caga nessuno ma quando vado in Italia ci sono i bambini che si fanno le foto e i genitori che mi mettono dentro i bambini perché è veramente bella se tornassi indietro non la comprerei più dico la verità perché è scomodissima e mi manca tanto tanto la mia BMW Serie 1 con cui andavo in montagna andavo nel parcheggio che vi sembra una cosa strana ci dico una cosa semplice ma io non riesco più a usare il mio parcheggio perché è troppo è troppo basso la macchina è troppo bassa non riesco a entrare quindi è veramente faticosa con la macchina lì bene bene no invece no io detto questo appunto il giro praticamente sempre solo in motorino quindi in realtà sono contro le macchine quindi non cioè sono contro non ce l'ho non la uso il motorino bene però secondo me invece Porsche è molto interessante a livello di titolo perché? perché rappresenta un qualcosa secondo me è un comprivalore i prezzi sono molto bassi non c'è diciamo non non c'è ancora un segnale di inversione quindi se farete il corso con Marcello probabilmente non vi direbbero o non vi diranno sia Luca che Riccardo appunto di entrare su un titolo con queste condizioni però secondo me a questi prezzi considerato il PE considerato tutto il resto secondo me è un'ottima opportunità proprio a livello di valore intrinseco dell'azienda trovate l'articolo di Enrico proprio su Porsche su investire.biz ragazzi io vi ringrazio ringrazio tutti i nostri amici che si sono collegati veramente siete tantissimi questa questa sera ringrazio anche tutti quelli che non hanno potuto connettersi e vedranno la registrazione e ci vediamo quindi spero di che anche voi facciate parte della dell'iniziativa appunto del corso con con Marcello e per chi ci sarà ci vediamo il 22 mila a Milano Alice Moku Day grazie Enrico grazie a voi grazie Riccardo io e Riccardo adesso caro Enrico andiamo a mangiare del pesce questa sera dopo aver mangiato una carne atomica mamma mia ragazzi che roba a sciacca grill sciacca grill che è dietro al nostro ufficio qui la valletta abbiamo mangiato una cosa che ragazzi era meglio del sesso veramente cioè io ho deciso che no no era troppo buono troppo buono troppo buono bene ragazzi fatemi una stupidata siete fortunati perché sta arrivando Pietro e Pietro vi porterà a mangiare a Ocean Basket e io di questo stasera stasera andiamo a mangiare pesce infatti con Pietro che è già atterrato mi ha appena mandato un messaggino bene Giulio mi dice Luca è anziano non pensa più al sesso e Giulio che dobbiamo fare a 34 anni sei su una parabola discendente mamma mia che pessimismo dai che sto scherzando ciao ragazzi un abbraccione buon trading a domani andate a vedere i video mio il video mio di Marcello Ascani mi raccomando che ci tengo ciao ciao a quello di Luca mettete non mi piace però mi raccomando no non fate cavolate che poi l'algoritmo di YouTube mi penalizza mettete mi piace ciao a tutti buona serata a tutti